Benvenuti in un nuovo episodio del Symposium Podcast. Volevo prima di presentare l'ospite e ringraziarvi perché ormai siamo oltre 4.000 e volevo ricordarvi che dato che ci guardate in tantissimi ma non tutti di voi ancora sono iscritti al canale di cliccare il pulsante qui sotto, iscrivervi perché ogni settimana c'è da imparare da nuovi imprenditori. Oggi con noi Leonardo Verona, benvenuto. Come va? Bene, bene, bene. Da pochi giorni qua a Dubai sono tornato e non vedevo l'ora di fare il podcast, la verità è che sono tornato e ho detto... Sei venuto a Dubai per noi. Dillo dai, facci contenti. Sono tornato a Dubai per voi. Allora Leonardo raccontaci un po' velocemente chi sei al giorno d'oggi così che poi andiamo a vedere un po' anche la tua storia come sei arrivato al livello di carriera che è in questo momento. Quindi presentati pure per chi ancora non ti conoscesse. Chiaro. Vabbè, sono Leo, sono toscano, ho 24 anni e fondamentalmente da sei anni faccio network. La verità è che poi il mio obiettivo nella vita è diventare un imprenditore di successo, non mi reputo ancora un imprenditore di successo sicuramente. Ho combinato qualcosa di buono nel network marketing e ho iniziato da zero appunto sei anni fa, no? Quindi ho una storia bella tosta nel senso che quando sono iniziato sono partito da zero, i miei genitori sono dipendenti normalissimi. Mio padre era un operaio, mia madre un'infermiera. Quindi mi ci ha voluto un po' per entrare nelle dinamiche, per capire bene come pensa una persona di successo, come ragiona, eliminare un bel po' di paradigmi che avevo, introdurre dei nuovi. E diciamo che i miei primi tre anni mi sono serviti a quello. Ho fatto dai miei 17 ai miei 20, mangiando merda, lavorando 18 ore al giorno, leggendo tutti i libri possibili, mangiandomi tutti i corsi possibili senza vedere ancora grandi risultati. Poi nel mio quarto anno ho iniziato a ingranare, feci il mio quarto anno, ho raggiunto gli 89 mila dollari, quindi sto nel mio primo anno dove ho iniziato a fare buoni numeri, fino a che poi quinto anno, sesto anno ho iniziato a costruire quella mia community di Marketer Z. Ad oggi siamo forse, sicuramente, la community fra le più grosse d'Italia, forse anche fra le più grosse d'Europa in questo momento. Siamo in un bel mezzo di un lancio adesso, con un'azienda nuova di network, con Gifu. Questo mese, tra l'altro, stiamo facendo un record di fatturato assurdo, perché siamo in due settimane, siamo intorno ai 700 mila dollari di fatturato. Sorpasseremo, dire, a lungo al milione questo mese. E niente, è una nuova sfida, mi sto divertendo, periodo di cambiamento, diciamola così. Te l'ho riassunta veramente molto breve. Hai fatto bene, adesso entro nei meandri della storia. Vorrei partire proprio dall'inizio, no? Spesso si dice che una persona inizia un percorso di cambiamento, che sia fisico, imprenditoriale, eccetera, o per ispirazione o per disperazione. Nel tuo caso, quali delle due? Allora, in realtà è un po' particolare, nel senso che io quando ho conosciuto il mondo generale del business online, ero completamente non scettico, quasi odiavo, anche solo il fatto che mi parlassero che ci fosse questa possibilità, no? Perché io ero cresciuto comunque con determinati paradigmi, determinati modi di ragionare, derivanti appunto dal fatto che i miei genitori mi avevano insegnato quello, no? Cioè, vai a scuola, vai all'università, ha trovato un lavoro di ufficio, sicuro, e quindi in qualche maniera vedevo male proprio chiunque provasse ad ottenere di più nella vita, no? Sono cresciuto in quell'ambiente del, se lui ha una bella macchina, chissà che cosa ha fatto per averla, no? E quindi ho conosciuto, quando ho conosciuto il business online da mio fratello, ero molto, tipo, scettico. Mio fratello è l'opposto di me, no? Era quella persona, io ero quello che rispettava tutte le regole, no? Si doveva fare i compiti, li faceva. Più grandi di lui? Nove anni più grandi. Ok. E siamo proprio l'opposto, cioè lui è sempre stato quello che voleva far soldi, non lo so, faceva il casino, arrivavano denunce, cose. Io invece quello, precisissimo, volevo essere quello buono della famiglia, no? Forse anche per antitesi in qualche maniera. E la verità è che però lui mi ha svegliato, nel senso che questo, vorrei stare sempre nelle regole, mi aveva portato a essere un po', diciamolo, rincoglionito proprio nella vita, no? Di non saper me la cavare nella vita. E lui mi ha iniziato a svegliare, ha iniziato a far capire, a aprirmi un po' la testa. E all'inizio ti dirò, né per ispirazione né per disperazione, per assurdo, più per sentirmi grande. Sai no, ero un adolescente, avevo 17 anni, mio fratello aveva 26, e lui magari andava in discoteca, tornava alle 5 del mattino. E io per sentirmi parte... Un po' emularlo, insomma. Esatto, per sentirmi più grande, siccome lui aveva iniziato a fare network, ho detto, lo faccio anch'io. Forse la verità è che, cosa è successo? È successo che nei primi mesi ho conosciuto persone che erano partite da zero e che ce l'avevano fatta, no? E conoscendo queste persone è nata dentro la mia testa l'idea che potevo farlo anch'io. E all'inizio è nata, poi sempre di più ho trovato conferme, 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 conferme. E quando ho iniziato ad avere tante conferme, succedeva che quando volevo mollare il network, perché l'avevo iniziato solo per sentirmi parte come fratello, nella mia testa c'era, stai rinunciando a qualcosa che potresti avere. E io dico sempre questo, no? Meglio, meglio non scoprire mai che c'è la possibilità, piuttosto che scoprirla e mollare. Perché è troppo tosta una volta che tu hai scoperto che si può vivere un certo tipo di vita, rinunciarci. Lì ormai ero bloccato, avevo investito, dico sempre no, né troppi soldi né troppo tempo, avevo investito troppi sogni in questa cosa per rinunciarci. E quindi da lì, non lo so, direi per ispirazione forse quindi a questo punto. Beh sì, se hai guardato anche le storie degli altri. Credi che se questo network, comunque questa opportunità fosse arrivata a una persona diversa da tuo fratello, l'avresti colta lo stesso? Avresti detto no, non ci credo. No, è impossibile, non l'avrei mai fatto. L'unica persona che poteva cambiare il mio modo di ragionare in quella fase della mia vita era mio fratello, perché comunque è il fratello maggiore, quindi ha molta influenza in qualche maniera. E la verità è che mio fratello è stato il primo nella mia vita a credere in me. Cioè il primo che non mi ha fatto sentire uno sfigato, perché era uno sfigato poi negli altri ambiti nella vita, e mi diceva tu sei intelligente, tu qua dentro spacchi. E io ho rivisto poi questa cosa molto anche, l'ho poi replicata con le persone che oggi sono i top leader della community, sono quelli che guadagnano di più insieme a me. Nel senso che ho notato di come credere fermamente in una persona, considerando che la maggior parte delle persone vive l'intera esistenza, senza avere neanche una singola persona che ti dice io credo in te, ecco, se tu anche solo una persona crede in te, cambia la tua percezione, come tu ti vedi, e quindi se cambi come ti vedi, cambia anche come agisci, quindi cambiano i risultati, trovi conferme, e crei un circolo vizioso per cui esci un po' da quella scatola che ti ha ricreato. Questo lo vedi poi ovunque, perché la maggior parte delle persone hanno bisogno più che altro dell'approvazione, anche appunto solo di una persona, di quello che hanno intenzione di fare. Questo anche nella scuola, sei sempre un po' dimoroso, poi la professoressa ti dice no hai fatto bene, ok allora ti senti super sicuro su quell'ambito e vai spedito. Quindi lo stesso nella vita, infatti in parecchi podcast poi è emerso anche il fatto, e ne volevo parlare anche con te, del comunque sia la fortuna di, come magari è anche stato nel mio caso, avere i genitori che comunque sia magari non capiscono, però neanche ti danno contro, perché comunque sia poi è difficile da uscire quando le persone a te più vicine, quindi appunto magari tu avrai già tuo fratello dalla tua parte, però se i tuoi genitori, magari tuo fratello, gli amici più stretti ti danno contro, e lì è veramente difficile uscirne. Invece quando hai già intorno le persone che dicono io credo in te, tu quando vai fuori e dici ok, però i miei credono in me, quindi io devo dimostrare che valgo, perché altrimenti sto facendo la figura un po' dell'idiota, no? Certo. Quindi questo sicuramente anche per chi poi ci ascolta, ma anche per chi inizia un percorso nel network marketing, è fondamentale. Io una cosa che volevo chiederti riguarda quella, alla storia che hai raccontato, no? Hai detto che i primi tre anni ti sono praticamente serviti come scuola per uscire da paradigmi mentali che hai costruito vivendo una vita, diciamo, normale con dei genitori che fanno comunque sia un'altra tipologia di lavoro e hanno comunque anche un'altra cognizione di vita, no? E secondo me è molto interessante perché, cavolo, tre anni sono tre anni e quindi non è un periodo, dicevo, tre settimane, quattro settimane, no? Cosa viene motivata una persona che per tre anni ottiene risultati discredi, perché poi non so a livello economico come era, però, diciamo, tiene motivata a fare quell'azione nonostante ancora non vedi il risultato? Certo. Allora, te la direi così. Allora, innanzitutto, vabbè, sono stati tre anni in cui veramente, dico, non lo so che percentuale di, diciamo così, di teenagers, perché poi dei miei 17, dei miei 20, sarebbero stati disposti a fare quello che ho fatto io, perché onestamente erano 18 ore al giorno di lavoro, 1000 euro al mese di media con cui sopravvivevo e veramente tagliato fuori ogni singola cosa che un 19enne medio ha nella vita, no? Divertirsi, stare con gli amici, stare leggero, no? Io tutta quella parte lì della vita ho deciso di tagliarla proprio completamente. E la verità è che se ci penso bene un po' era la, te l'ho detto prima, no? La consapevolezza che fosse possibile avere una determinata vita. Quindi in qualche maniera ogni volta che volevo mollare dicevo ok, perfetto, mollo sta roba, che cazzo faccio? Cioè cosa ho? Quali sono le alternative? Se non ce la faccio qua dentro torno a quella vita lì? Sono davvero disposto, no? Cioè io ero arrivato a un punto dove dicevo piuttosto sto dieci anni a vivere così ma voglio arrivare a quel tipo di vita. E un po' in realtà è anche una cosa che è l'unico rimpianto che ho, Nel senso che forse mentre vivevo in quella maniera sarei stato diciamo così non me la stavo godendo. Io dico sempre invece l'unico rimpianto che ho è che mi sarei goduto un po' più il percorso perché poi devi avere anche quella consapevolezza che non sempre la vita va nel dettaglio al millimetro come vorresti tu, no? Certo. Qui se tu non ti godi il percorso nel mezzo e poi in fondo si ottieni dei risultati ma non esattamente quello che tu pensavi è un peccato essersela goduta male, no? L'altro è quanto zoomi su un determinato periodo della vita nel senso che tu guardi magari il percorso di sei anni è un super crescendo ma se vai a zoomare su un piccolo magari periodo stai magari impicchiato in discesa diretta, no? Quindi effettivamente la capacità è stare sempre lì e continuare a guardare quello che è il lungo termine del... E al contempo scusa ti interrompo stavo ragionando nella domanda che mi hai fatto era anche la questione altri due motivi forse uno era la responsabilità verso le persone che stavano lavorando con me cioè comunque c'erano persone che stavano lavorando con me che avevano determinati obiettivi e... e se io mollavo i miei stavo dicendo a loro di mollare loro e io sono cresciuto con i miei genitori che mi hanno creato un enorme senso di responsabilità verso anche la scuola verso tante serie cose questo senso di responsabilità io l'ho riportato poi nel mondo imprenditoriale ai miei nei training dico sempre i soldi i risultati seguono le responsabilità no? Non so Mark Zuckerberg è miliardario perché si prende la responsabilità che se Whatsapp non funziona per un minuto se ne accorgono un miliardo di persone no? E la stessa cosa in qualche maniera è successa a me no? Io mi sono preso le mie responsabilità e le responsabilità delle persone che lavoravano con me di raggiungere determinati obiettivi e... e stavo proprio male all'idea di rinunciarci no? Di lasciarla a piedi questo è stato un altro fattore un altro fattore e il terzo è stato il fatto che per la prima volta nella mia vita no? credevo in qualcosa forse comunque la maggior parte della gente se ci pensi non ha grande successo in quello che fa perché si dice boh beh lo faccio perché boh perché quella è la mia strada perché devo far quello però non non so come dire non ha quella profonda credenza di dire voglio diventare il numero uno in quello io invece me l'avevo costruita questa credenza e quando hai passato questo periodo poi cosa ha fatto lo switch magari nel incrementare fatturato di gruppo persone nella community qual è stata secondo te la cosa che ti ha permesso di crescere poi in maniera esponenziale perché si è detto che praticamente i primi tre anni hai fatto più o meno un lineare e invece i successivi tre sei esploso completamente immagino ci sia stato un paradigma che è sbloccato o comunque un qualcosa anche a livello tecnico lavorativo che hai implementato che ti ha permesso di crescere così tanto credo che nella verso la no più che fine 2019 soprattutto inizio 2020 è iniziato a cambiare molto quella che era la mia energia io credo che un po' in ogni ambito l'energia fa un'enorme differenza cioè quando tu ti siedi al tavolo con una persona inizi a parlare con quella persona le vibes che ti trasmette l'energia che ti trasmette fanno la differenza banalmente su una vendita ma banalmente su un deal un affare che tu devi fare con quella persona su qualsiasi cosa e che la mia energia lì è completamente cambiata nel senso che credevo in ogni singola persona con cui parlavo ero estremamente ottimista sulle cose e questa è una cosa che tuttora ho io non riesco a parlare ad esempio con i pessimisti non riesco io litigo quando facciamo le riunioni aziendali però in realtà hanno ragione nel senso che non so se bisogna organizzare un evento e diciamo così realisticamente l'evento dovrebbe essere di 500 persone e avere un determinato budget ovviamente di conseguenza io sono quello che dice facciamolo di 2000 persone invitiamo un rapper alla festa e investire forse è questo quando ho iniziato ad essere estremamente ottimista sulle cose ho cambiato la mia energia perché davo per scontato che i miei sforzi sarebbero stati ripagati e quindi in qualche maniera io penso che le persone le persone là fuori di media sono insicure e quindi quando incontrano un'energia che trasmette sicurezza tendono a seguire quell'energia così come no io dico i dipendenti sono tendenzialmente persone un po' più insicure sul denaro e quindi cercano un impregnitore che invece è sicuro di se stesso sul denaro che garantiscono stipendio quindi è il dipendente che segue l'imprenditore di media è la stessa cosa secondo me in qualsiasi ambito che è più sicuro in una cosa tendenzialmente verrà seguito dagli altri quindi anche nel network comunque sia la leadership è quello che poi fa da padrone al business e vorrei entrare un po' più appunto su questo discorso come si trovano barra come si formano ottimi leader in azienda che sposano i valori i principi e soprattutto la visione di quello che è il progetto della community che hai creato e soprattutto mi piacerebbe vederla più che magari a livello teorico anche quello che hai fatto concretamente negli anni per sviluppare il team di leader quindi magari dagli eventi a magari dei retreat delle diciamo dei piccoli viaggi barra esperienze insieme cioè quali sono stati in questi ultimi tre anni di esplosione quelli che secondo te sono stati delle mosse vincenti nel costruire leadership chiaro io credo che il grandissimo errore che si fa soprattutto nel network nel costruire leadership è che si costruiscono degli ottimi esecutori qui delle persone che sono diventano molto brave a eseguire l'input no quindi tu dai le direttive loro sono molto forti a eseguirle e questo porta le persone perché si fa questo errore perché in realtà questo approccio porta la gente a fare fino ai 5.000 10.000 euro al mese perché un ottimo manager fa quelle cifre io credo di aver costruito in maniera completamente diversa perché ho sempre avuto la visione di portare i miei leader a fare molto di più di questi numeri perché se i miei leader principali fanno 30.000 40.000 vuol dire che c'è spazio sotto per farne 5.000 quindi la visione si può ampliare molto di più e credo che la cosa che sono stato bravo a fare raramente mi dico sono stato bravo a fare qualcosa perché sono sempre ogni tanto bisogna dire autocritico però la cosa che sono stato bravo a fare è far sentire protagonisti e rendere effettivamente protagoniste le persone nella costruzione della community nella costruzione del network cioè io ho sempre sono sempre stato bravo a spartire bene ruoli e responsabilità per le persone e quando non lo so se io e te lavoriamo insieme e io inizio a darti delle responsabilità importanti nella costruzione del network o della community automaticamente tu senti tu alla community e quando le persone sentono proprio qualcosa sono disposte a lottare per quel qualcosa sono disposte a fare di più di quanto non farebbero per soldi no? la gente si uccide in una guerra per il proprio paese e magari non si ucciderebbe per un milione di euro no? certo quindi credo che la leadership si costruisca bene quando non si vuole quando si capisce che la chiave è non avere il totale controllo tu ma diciamo così distribuire le responsabilità fra le persone e questo però si può fare solo quando tu fermamente credi nella gente il problema soprattutto in Italia e questo non vale solo nel network ma nell'impresa è che c'è la mentalità del io lo faccio meglio no? io parlo con bar titolari di bar di ristoranti eccetera che funzionano dico ma perché non ne apri un altro? e quello che succede è che c'è mancanza di fiducia non credono nelle altre persone credono che gli vogliono rubare credo che poi gli rubano l'idea e aprono come competitor e l'economia va alla velocità della fiducia no? per questo in America viaggiano al triplo di noi perché uno che apre un bar non apre un bar per aprire un bar e aprere per aprire 100 credo che questo sia un po' la differenza noi questa cosa qua Leo l'abbiamo vista da poco abbiamo inserito un test in azienda per reclutamento del personale e ci dà alcuni dati proprio sulle persone e ho visto che soprattutto nel mondo online il dato di coinvolgere le persone quindi di sviluppare progetti con altre persone è basso in tantissimi proprio perché siamo un po' tolto il network parlo dei business online siamo un po' a tutto fare cioè ok dico apro l'e-commerce ipoteticamente faccio io lo shop faccio io le grafiche faccio io le ads faccio io tutto faccio il customer e quindi se è abituato a svolgere tutto tu solo a una certa inizia a delegare però fai fatica perché quando dici ok questo lo faccio meglio io come dici tu poi diventa una difficoltà però appunto vedendo che questo test lo iniziamo a fare a 20-30 persone al mese vediamo che proprio questo dato è un dato che pochissime persone hanno ha sbloccato più che altro è la fiducia anche a livello economico di dire ok tu gestisci per dirti il conto corrente aziendale cioè veramente l'idea deve entrare in un livello di responsabilità alto per l'altra parte però come dici tu è solo quando magari gli deleghi la responsabilità che si sentono veramente veramente parte del progetto e tu la cosa che volevo chiederti perché ne parlavamo prima poi off camera era la differenza tra lo sviluppare e insomma far partecipare in azienda dei leader maschili rispetto a dei leader femminili cosa hai visto essere più i sistemi più efficienti ok in entrambi i casi e soprattutto nel mondo del network dove vedi più più potenziale chiaro sì no io ho sicuramente mi sono focalizzato molto negli ultimi due o tre anni sulla leadership anche al femminile e no alla fine proprio poco fa qualche giorno fa è uscito dall'altro il diamante di Rachel no quindi è diventata sicuramente una delle networker più forti d'Italia e e la verità è che per i primi anni di network non sono stato assolutamente capace tanto che io avevo zero donne nel team non solo a livello della leadership zero donne iscritte proprio nel mio network e credo che vabbè io mi sono messo a studiare un sacco di libri un sacco di cose ho iniziato poi a fare pratica sul campo a cercare di di far emergere un po' di donne all'interno della mia community mi sono reso conto di un po' di cose no che in realtà sono più dettate dall'esperienza che lette da qualche parte e beh sicuramente l'approccio è completamente diverso in primis nel senso che è molto diciamo così lavorando con lavorare con un uomo sicuramente è più semplice perché basta sfruttare molto la logica quindi i numeri quindi no tu gli dai un input fai a e quello fa a no nel senso è molto basta sfruttare molto la logica è molto più semplice però al contempo si riesce a tirare su una leader donna ha delle caratteristiche naturali no quali ad esempio l'intelligenza emotiva che un uomo non riesce mai a sviluppare a quel livello quindi ci vuole sempre nei ruoli della leadership di nel network ma credo anche in un'azienda ci vogliono entrambe le figure perché riescono a dare dei punti di vista diversi la donna è più creativa quindi ci sono si completano in qualche maniera credo che in primis la grossissima differenza è come come approcciare nel dare i feedback e nel fare critiche questo è il più grande errore che fanno tutti perché un uomo se tu inizi a fargli una critica a dargli un feedback negativo fatto in una maniera corretta ovviamente ma lo prende come sfida e quindi come ok adesso faccio di meglio adesso miglioro una donna se tu sbagli nel fare la critica e la fai in una maniera sbagliata vai a intaccare la self confidence no? perché le donne tendenzialmente sono più insicure e ho notato che a livello della leadership tu non ti ti puoi permettere di avere un uomo che tendenzialmente non è iper sicuro ma che ci ha lavorato su non ti puoi permettere di avere una donna minimamente insicura deve essere super sicura di sé e quindi se tu sbagli nel fare le critiche fai dei danni pazzeschi e e siccome io all'inizio non sapevo come e dicevo ok non posso fare critiche però come cazzo la faccio come comunichi a dargli feedback no? allora ho imparato che la chiave almeno poi ho imparato anche a dare feedback negativi nella maniera corretta però dovrei fare un training di un'ora adesso come si dice un webinar esatto ho capito che il trucco era questo era quello di in qualche maniera focalizzarmi sul dire quello che stava facendo bene piuttosto che dirgli quello che stava facendo male cioè se stava facendo 5 cose e 3 fatte bene e 2 fatte male io la riempivo di complimenti sulle 3 cose che stava facendo bene e poi gli accennavo che si poteva migliorare un pochino su quelle 2 fatte male no? e erano sempre di più i complimenti che le critiche e le critiche non erano mai critiche ma erano suggerimenti di come poteva fare meglio la cosa però dovevo investire 20 minuti erano 18 minuti di complimenti sulle 3 cose che stava facendo bene 2 minuti di come potrebbe migliorare quelle che stava facendo male ma senza dire che le stava facendo male sì ok tipo degli appunti yes così sicuramente questo è un errore è una cosa che possono migliorare il 90% dei leader che vogliono aiutare altri leader donne emergere l'altro aspetto che mi viene da dirti è sicuramente diciamola così è difficile poi mantenere l'ambiente l'ambiente femminile nella maniera corretta quindi fin da subito costruire con valori i principi corretti no? perché le donne tendono a essere un pochino più anche magari passano il termine invidiose l'una dell'altra a volte o no c'è più l'aspetto forse c'è un po' più l'aspetto dell'ego no? quindi ho notato che bisogna essere molto fermi sui principi e valori fin da subito mettere in chiaro cosa è accettabile in una community cosa non è accettabile non è accettabile il gossip boom al primo gossip bisogna subito intervenire se tu sei tollerante sull'aspetto ma questo è anche per gli uomini in realtà se tu sei tollerante sui valori e principi se una persona ruba e tu ruba in termini diciamo forti però si capisce il concetto se una persona ruba e tu anche solo lontanamente la giustifichi e non la punisci automaticamente crei un precedente che poi sarà imitato da tutti gli altri qui bisogna stare anche molto attenti su questo su cosa è concesso e cosa non è concesso cosa si può fare cosa non si può fare senza sconti altrimenti l'unica maniera per costruire una community sana è che ci siano delle regole secondo te cos'è che differenzia più che altro o qual è la differenza tra l'uomo e il dono su cosa veramente motiva il un percorso imprenditoriale o il raggiungimento di chiamiamolo successo nel senso che secondo me l'uomo è più anche semplicemente una cosa materiale economica mentre spesso è difficile trovare la stessa cosa in una donna sbaglio è vero ho notato anch'io questa cosa ho notato assolutamente questa cosa qui sì l'uomo alla fine è motivato anche da molti altri aspetti però comunque è molto concreto dice voglio far soldi perché Mario vuole comprare delle cose una casa una macchina questo quest'altro credo che secondo me è anche un po' come si sta diventando diciamo così la cultura che sta avvenendo fuori negli ultimi 20-30 anni che in qualche maniera la donna ha bisogno di dimostrare da un punto di vista proprio della carriera del business di essere autonoma di essere di non aver bisogno di un uomo eccetera eccetera certo che ormai diciamo così le donne di questa generazione vengono su con la mentalità del devo dimostrare da un punto di vista lavorativo e quindi questo è un aspetto che spinge secondo me tantissime donne avvicinarsi al mondo imprenditoriale molto di più che farsi valere più della parte economica un po' quello un po' credo anche l'insicurezza che ormai ti dà il mondo dei dipendenti nel senso che già c'è insicurezza di per sé sia uomo sia donna sia una donna molto di più perché giustamente nella società che c'è oggi tuttora ti chiedono se puoi avere figli ti chiedono tutta una serie di cose quindi nel mondo imprenditoriale una donna può essere molto più libera anche da questo punto di vista certo parlando di te qual è la cosa che ti modi in realtà la tua visione la tua missione cosa ti fa lavorare ancora duramente dal giorno d'oggi lo sai che te lo raccontavo prima di iniziare il podcast l'avevo un pochino persa nell'anno passato negli ultimi 12 mesi nell'ultimo mese l'ho ritrovata parecchio perché la mia visione è quella di impattare se più persone possibili non necessariamente economicamente ma anche solo da un punto di vista mentale cioè se io arrivo non lo so fra 5 anni che io sono riuscito a impattare anche solo da un punto di vista mentale ora ti faccio un esempio su qualche centinaia di migliaia di persone io sono felice sono arrivato alla vita cosa intendo da un punto di vista mentale intendo che ovviamente io non posso aiutare 100.000 persone a essere libere finanzieramente è impossibile però anche solo il fatto che grazie a me grazie alla mia community una persona si renda conto che c'è dell'altro nella vita si renda conto che non è che siccome è nato con una certa prospettiva di vita allora per forza devi vivere così ma può cambiare anche solo quello mi fa andare a letto la sera e dire cazzo sto facendo sto aiutando delle persone nel mondo d'arte l'input comunque sia sì perché poi io ho avuto tantissima gente che ha lavorato con me in passato che poi ha avuto successo in tutt'altri settori persone che hanno avuto successo nel mondo del fitness della coaching legata al fitness online ho avuto persone che hanno avuto successo nel mondo immobiliare in tantissimi ambiti persone che hanno lavorato in passato con me e io sono felicissimo perché dico anche solo quei tre mesi che abbiamo lavorato insieme probabilmente io ho distrutto dei paradigmi e io ho mostrato un modo di vivere che li ha ispirati e che in qualche maniera gli ha cambiato la vita poi è venuto è emerso tantissime volte anche nel podcast che spesso e volentieri il network è un trampolino di lancio è il primo mezzo di accesso a come dici tu un nuovo mondo un nuovo sistema di vita quindi inizia a vedere magari dal vivo persone che guadagnano 10, 15, 20, 30, 40 50 mila euro al mese ti sblocca un po' quel paradigma poi effettivamente tante persone io sono stato uno di quelli se ti pensi ho fatto un anno network marketing poi diciamo ho fatto una carriera su un altro mondo però probabilmente se il network non fosse entrato nella mia vita quelle da diciamo fine liceo non so oggi magari facevo il moratore o qualsiasi altra cosa perché non avevo avuto quel click con lo sblocco quindi sicuramente è importante oggi no a 6 anni di distanza nel network credi fermamente che sia la migliore opportunità per far soldi per far business o anche tu magari hai testato qualcos'altro o hai occhio su qualcos'altro allora io sono stato per un periodo un opportunity seeker cioè che facevo network tipo il terzo anno che ero un po' disperato nel senso che mi facevo un culo assurdo però non raccoglievo e quindi ho iniziato a provare un po' di dropshipping un po' di social media marketing un po' quello un po' quell'altro una ricetta un po' ho anche preso il tuo corso di social media marketing grazie se sto qui non lo raccomando non funziona però ti dico allora io credo che il vantaggio che abbia il network no io ovviamente sono un tifoso del network perché è quello che mi ha cambiato la vita il vantaggio del network è l'ambiente non è più facile da un punto di vista di fare soldi no tantissimi altri modelli di business possono cambiarti la vita la cosa è che non tutte le persone hanno la forza mentale di farcela da soli e quindi il network ti mette per un periodo per un in realtà fino a che sei in quel settore in un ambiente dove tutti ti incoraggiano dove tutti vogliono che tu ce la faccia qui ti aiuta a avere quel calcio nel culo no che ti aiuta anche di avere quelle persone che credono in te come diciamo all'inizio del podcast perché comunque sia se apri magari appunto un'agenzia di marketing se è lì da solo cerchi i clienti parli con i clienti effettivamente sei abbastanza isolato invece il bello del network anche quando lo facevi è che comunque sia hai persone che ti comprendono esatto e che quindi pian piano possono darti una mano nel difficoltà che incontrerai nel tuo percorso perché magari uno già ci è passato su una cosa uno sull'altra e quindi rimani rimani motivato è chiaro che poi anche per me in realtà il network è un mezzo non è il mio fine è assurdo quando dico queste cose la gente fa un po' la faccia stranita perché comunque sono arrivato a determinati livelli nel network quindi uno si aspetta che dice cosa vuoi fare nella vita il networker però la verità è che per me è sempre stato un voglio arrivare lì così che posso aiutare economicamente la mia famiglia posso viaggiare per il mondo ho budget e da lì posso dedicarmi a fare impresa anche per me tuttora il mio futuro lo vedo come impregnitore non come networker magari con il networker rimane come una fonte di entrata a volte mi spaventa un po' nel senso che io voglio tantissimo fare imprese nella mia vita non voglio fare una vita dove faccio network marketing fino a c'è l'impresa cosa intende hai qualcosa in mente o troverai un concetto vago del dire voglio l'azienda l'ufficio non te lo so dire non ti so dire cosa voglio fare sicuramente mi piacerebbe fare un qualcosa non lo so di innovativo no mi piace proprio l'idea di impattare sulla gente come ti ho detto prima quindi ora ora impatto sulle persone mentalmente e anche economicamente ogni round domani voglio magari impattare dando un servizio di un qualche tipo non ti saprei dire ecodoricamente potresti usare il network marketing come metodo di diciamo di marketing poi per si anche assolutamente alla fine la forza della community è anche quella è chiaro che al contempo molte volte penso al fatto che il network sia stato un grandissimo mezzo per un periodo sarà un limite nel senso che quando tu arrivi a un determinato livello di competenze su una cosa è difficile anche in un domani di staccarsene perché se sei molto bravo in quello non lo so se tu hai un'agenzia e tu sei così competente nel come far funzionare un'agenzia di marketing che con uno schiocco di vita la fai funzionare è difficile dire mi dedico altro è vero io guarda sono il caso preciso che è appena spiegato perché comunque sia spesso mi sono trovato nell'idea di dire ma perché non lancio qualcosa di magari diverso che non abbia responsabilità con delle persone perché visto me e Sofia comunque siamo sempre in giro e quindi dici ah lì magari meno 8 diffuso però devo parlare con i clienti quindi ogni tanto ci pensi a dire faccio un modello di business che non ha rapporto le relazioni di mezzo poi alla fine però ritorni al fatto che cavolo io so esattamente come quello funziona e l'ho replicato più volte durante la mia carriera quindi per me ormai è un ok prima ha fatto questo poi ha fatto questo poi ha fatto questo magari ogni volta arrivo al livello più alto ok perché poi appunto alcune agenzie sono chiuse per il covid eccetera eccetera però comunque sia poi il step by step è quello e quindi quando sei forte su quella cosa lì è difficile che riesci a tirartene via per questo ti dicevo magari è fighissimo che una volta appresa qual è la skill del creare leader puoi essere il primo a creare il tuo il tuo servizio barra prodotto barra qualsiasi cosa innovativo che pensi che veramente impatta sulle persone e usare il metodo di distribuzione del network marketing all'interno proprio della della distribuzione dell'azienda quello secondo me da networker è uno switch veramente veramente interessante cioè a fine rimani nel mondo però stai facendo il tuo progetto cioè stai vendendo la tua offerta la tua risoluzione del problema anche anche non ti so dire non ti so dire cosa farò lo vedremo dai tanto ci sarà l'occasione magari tra x anni di rifare un altro episodio perché tanto il simposimo rimarrà qua e ci racconterai tu della mia azienda che avrò ottimo Leo volevo uscire un po' dal mondo business cosa anche ti piace fare al di fuori del lavoro della parte business dei soldi dal punto di vista personale oltre ai viaggi che abbiamo già capito sempre in giro però hai delle passioni per cui dici ok prima magari di avviare questo percorso immaginavo una vita in cui ipoteticamente ero tutto il giorno a lavorare in un ufficio eccetera e invece oggi avendo più libertà riesco a dedicarmi a YZ ok cose che comunque sia magari fanno parte di te come persona allora la verità è che io sono sempre stato un mega appassionato di calcio in primis io prima di iniziare a fare network sapevo non esisteva che mi perdessi una partita della Juve i primi due tre anni degli scudetti sapevo ogni partita a memoria come era finita che aveva segnato c'era proprio un livello di malattia importante e quindi sono abbastanza appassionato di calcio ora ogni tanto mi capita di dire boh vado a vedere quella partita allo stadio sono andato a vedere un paio di partite di Premier League l'anno scorso così ho preso il biglietto tre o quattro giorni prima prendi sono andato a vedere il Chelsea il Tottenham mi diverte un po' quello sicuramente però sai più che altro andare a vedere dal vivo quindi allo stadio proprio certo vivere l'esperienza comunque sì non sono uno di quelli che ama mettersi lì a vedere le partite in divano pub corn esatto e poi ti devo dire la verità è che mi diverto molto a lavorare mi diverto molto a lavorare e a viaggiare ma a me viaggiare mi piace soprattutto no diciamola così odio chi viaggia da turista io odio i turisti sono proprio non sopporto quelle persone che arrivano con tutto organizzato che vanno a vedere non lo so al presente tre o quattro attrazioni turistiche sì proprio secondo me sono due cose completamente diverse essere un turista e essere un viaggiatore chi viaggia sono quelle cioè un viaggiatore è una persona che va in un posto per vivere come se vivesse in quel posto no quindi non lo so tu adesso vai in Thailandia andare lì e vivere come se fossi uno che vive lì quindi che non necessariamente deve andare a vedere tutte le attrazioni tutte le cose ma semplicemente vive la sua vita normale però con una cultura diversa e integrandosi in qualche maniera sì quella è una libertà grande nel senso che effettivamente io sono dalla tua stessa idea e soffia uguale nel senso che prendere l'idea diciamo prendo tre giorni me ne vado a Phuket e in tre giorni devo andare a vedere il Gran Buddha devo andare a vedere la spiaggia l'isoletta le Fifi Island quasi mette stress che palle e poi effettivamente hai solo visto cioè la cartolina come dico io cioè tu la cartolina la vedi comunque vai Google Maps cioè vai ovviamente in maniera eronica questo però comunque vedi solo il bello come se rimani su Instagram a vedere le cose quando invece non lo so magari noi quattro mesi in Thailandia siamo beccati le cose di cultura religiosa che tu dici quasi no che farà brividire ti sei beccato dall'allagamento con la gente che andava in giro con le canoe prendi a far beneficenza le persone cioè quello lì è il vero gusto poi del viaggiare dello scoprire secondo me sì sì io amo amo tutta quella roba lì andare io sono poi una persona iper disorganizzata di mio quindi in realtà anche se facessi il turista sarei farei così comunque perdi tutti gli appuntamenti sì disorganizzatissimo però io amo proprio capito arrivo scopro posti conosco gente di lì mi piace chiacchierare capire come ragionano no io la prima volta che arrivai a Dubai ogni taxi in cui salivo chiedevano al pakistano l'indiano di turno perché era qua da quanto tempo come viveva di dove era come si viveva qua con quello che guadagnava lui mi piace mi piacciono ste cose mi piace andare al supermercato di quel paio nei supermercati a vedere che cazzo vendono queste cose qua sì 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 quali sono le due best practice quando viaggi tipo noi abbiamo ormai trovato il modo la prima volta che arriviamo su un posto nuovo cerchiamo andare nel punto più alto ok e guardarlo dall'alto e poi scegliere ok quella cosa lì quella cosa lì quella cosa lì me la voglio andare a vedere che è pazzesco ce l'abbiamo fatto a cosa mui una volta siamo andati su in cima e abbiamo visto ok quella spiaggia lì vai quella è figa quella è il primo invece riguarda magari internet le cose così e magari le prime cose che fai quando arrivi su un posto è il supermercato ah io sì devo vedere subito un supermercato devo trovare un bar con un caffè decente quindi io proverò almeno subito 10-15 bar per capire qual è il migliore devo avere la combinazione di fare un caffè che sia il più italiano possibile unito a simpatici che ci puoi chiacchierare l'atmosfera da bar italiano esatto un'atmosfera giusta questa è la seconda cosa che farei subito dopodiché io sono uno molto che va all'avventura quindi apro maps inizio a scorrere così a casa vedo un posto che mi ispira lo pinno metto do il via e vado fino a lì e poi da lì scopro a piedi tanto che la prima volta che sono venuto a Dubai faccio per ridere andai andai a Dubai Marina e cliccai su come si chiamava quello che fanno anche la cena su per aria ah ok Zero Gravity Zero Gravity e soltanto che era il primo giorno a Dubai non capivo non capivo niente quindi le distanze ingannano esatto quindi non capivo quindi cosa ho fatto ho detto boh ci vado in bici non so come è venuta questa idea quindi ho scandalizzato ho passato la bicicletta e sono finito praticamente come se fosse ora non so cosa si chiama autostrada qua però come se fossi in autostrada in bicicletta perché maps mi aveva tutto sballato e mi diceva di attraversare a un certo punto l'autostrada c'era il guard lane nel mezzo e dicevo adesso che cazzo faccio e quindi mi sono messo una parte con le macchine che passavano a 200 e ho tirato di là la bicicletta tanto che poi è caduta non so come mi hanno fatto pagare la multa sull'app o un casino e mi sono arrampicato e sono sceso dal ponte non so come sopravvivendo e poi sono arrivato finito questa è una prima avventura il primo giorno a Dubai questa è leggendaria la bicicletta dei nuovi guru ormai no ma facevo super ridere i primi giorni a Dubai perché ero da solo non conoscevo nessuno quindi ho fatto un sacco di cose stupide comprai la tunica quella quella araba no e andavo in giro così come se pensavo fosse normale sì 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 ottimo allora Leo dato che siamo in conclusione prima ci hai parlato di caffè italiano no e con Sofia diciamo l'altro giorno che hai questo format sui tuoi social del del caffè quindi consigli mentre bevi il caffè ok quindi il caffè ce lo siamo bevuti prima però facciamo diciamo mettiamo nel caso che stiamo bevendo un caffè e dai un consiglio a chi ci sta guardando magari che sono ragazzi che stanno iniziando adesso il loro percorso nell'imprenditoria digitale o anche nonna e qual è il consiglio che gli diresti dal punto di vista della tua esperienza ma il consiglio che mi viene da dare io lo do spesso però ne approfitto che sono qua con te allora che puoi confermare che io mi guardavo sempre questi cioè io mi immagino no io che mi guardo una puntata come questa quindi mi immagino che sono lì a casa mia nella mia cameretta sfigatissima che era due metri per due metri su youtube a guardare quelli che ce l'hanno fatta nelle mie testa e a dire vorrei essere come loro no e io quello che avrei voluto sentirmi dire perché la verità è che un me un taylor tutte le persone che poi vengono al symposium credo che siano dei te no dei te che mi stai guardando che hanno lavorato duro per più tempo che hanno si sono letti più libri che hanno visto forse più video che che ci hanno creduto di più però se tu prendi tutte queste singole azioni che sto dicendo sono tutte cose che te che mi stai dall'altra parte dello schermo che mi stai guardando puoi fare quindi in qualche maniera no non è diciamo così non sono persone speciali quelle che hanno successo vedrai no quando quando anche tu arriverai a determinati livelli inizierai a conoscere gente e scoprirai che non sono esageratamente intelligenti non sono super eroi sono persone che hanno fatto quello che serviva non si sono guardati indietro hanno sacrificato quello che dovevano sacrificare sono state disposte a pagare il prezzo e oggi quindi si godono a volte spesso e volentieri anche semplicemente stanno facendo le due stesse cose ma l'hanno fatta per più tempo sì io ero iper impaziente su questo ero proprio uno di quelli che sai che si si autostressava perché non ce l'avevo ancora fatta no e quando in realtà stavo già facendo tutto quello che era necessario devo un po' rilassarmi dire ci vuole del tempo sì perché quando i piccoli step non li inofi nel senso che una delle capacità importanti è fare quello che deve essere fatto senza vedere il risultato perché magari il risultato sei nel giusto diciamo cammino nel giusto percorso ma semplicemente lo devi fare per più tempo per vedere quello che è il risultato e quando lo vedrai ci sarà un'altra nuova sfida che sicuramente devi intraprendere e a volte basta notare dove eri anche solo un anno fa e dove sei ora per notare cazzo magari non c'è stato un cambiamento esagerato a livello economico però c'è stato da un punto di vista di che persona sono quante cose so cosa so fare e quindi se inizi a guardarti indietro guardate dove sei capisci che fra un anno avrei fatto altri step in avanti fra un anno ancora altri step in avanti e quando tu sai che comunque anche i risultati economici sono una diretta conseguenza della persona che diventi allora lì puoi stare tranquillo perché se stai vedendo un progresso personale il progresso economico è una questione di tempo esatto ultima domanda tuo fratello in tutto questo fa ancora network è in azienda con te? mio fratello ha avuto una pausa di un anno e qualcosa dove non ha fatto niente quindi poi quando ha deciso di riniziare network si è iscritto nel mio team quindi è finito sotto diciamo e lui ha un talento enorme secondo me che si potrebbe fare un po' di più il culo e avrebbe ancora più risultati comunque fa bei numeri tuttora nel network con me nel frattempo però è uno che ha il cervello che viaggia a 3000 quindi ad esempio adesso sta facendo numeri grossi con la compravendita di bottiglie è diventato molto esperto su whisky su bottiglie di vario genere non ti saprei dire perché non sono io così esperto però riesce a trovare ha tutto un sistema di marketing per cui tramite il marketplace di facebook facendo ads trova venditori lui è molto esperto quindi riesce a comprare sempre a prezzi molto più bassi del mercato e poi rivende su kata wiki che è un sito di aste di bottiglie sta facendo numeri grossi su quello nel frattempo fa anche network nel frattempo fa il pazzo come ha sempre fatto ha comprato è rimasto sempre lì ieri ha comprato la moto di nuovo dopo che l'aveva venduta non riesce a star fermo un secondo è la natura delle persone in un campo sì è così ottimo Leo grazie mille per essere stato qui con noi al symposium speriamo di rivederti magari tra un anno due anni vediamo come è cambiata la storia e grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi